Buonasera, benvenuti al concerto inaugurale del nuovo anno accademico 2023-2024 del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine. Grazie a tutti. 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 la rapsodia in blu di George Gershwin uno dei più grandi compositori del novecento andò solo a ricordare il fatto che iniziò certo a suonare a dieci anni ma poi era giovanissimo quando compose il suo capolavoro e allora questa giovane età sia assolutamente di augurio a questi allievi allieve del conservatorio Tomadini era infatti il 12 febbraio siamo vicini a questa data del millenovecento ventiquattro e l'allora venticinquenne Gershwin esegui al pianoforte per la prima volta rapsodine blu composta in meno di tre settimane una straordinaria sintesi di musica popolare colta e di generi letterari proprio per richiamare quella condivisione di culture che caratterizzava quell'America quelle metropoli americani degli anni venti il programma di questa sera prevede un crescendo in scaletta fino ad arrivare proprio alla rapsodia in blu crescendo che si trova scritto spesso anche proprio negli spartiti e in questo caso crescendo che è anche un crescendo di popolarità di quello che andremo ad ascoltare sempre più musiche note e note e amate si aprirà con una prima parte su liriche scritte dai fratelli George e Ira Kershwin per Broadway la grande compagine orchestrale formata dagli allievi e dai docenti del conservatorio accompagnerà i solisti dei dipartimenti di jazz musica pop rock e di canto lirico sul podio dirigerà il maestro Walter Silviotti che insieme a Glauco Wenner firma gli arrangiamenti delle pagine musicali in programma ma prima di dare inizio al concerto io con piacere invito a raggiungermi il presidente del conservatorio Jacopo Tamodini di Udine Guglielmo Pelizzo Autorità gentili ospiti buonasera e grazie per la vostra partecipazione io questa sera non suonerò e parlerò molto poco perché mi sono stati dati tempi limitati giustamente per lasciare spazio ai protagonisti del conservatorio e derogherò parzialmente anche al protocollo desiderando così trasformare questa occasione da un momento non solo solenne ma anche spontaneo e confidiamo ricco di emozioni per cui lascerò tra poco il palco inizieremo con la musica poi ci sarà un breve intervallo e continueremo e finiremo con la musica durante l'intervallo ci saranno i saluti delle autorità prima però vorrei ringraziare alcuni illustri invitati a partire da Monsignor Guido Genero che peraltro è stato arciprete per molti anni proprio di Cividale il signor prefetto l'assessore regionale la collega collega la stimata collega Barbara Zilli in rappresentanza della regione i consiglieri regionali permettetemi Elia Miani e Roberto Novelli anch'essi Cividalesi i comuni l'assessore Pirone per il comune di Udine e abbiamo anche il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani caro sindaco ieri proprio ero da lei al teatro Verdi e ho conosciuto si è presentato il presidente confidiamo ecco di con questa occasione di avviare una collaborazione anche con il vostro con il vostro teatro dovrebbe esserci in sala anche la direttrice delle dr dell'ente del centramento regionale Ida Valent saluto il presidente della fondazione Giuseppe Morandini storico sostenitore del conservatorio ottomadini i presidenti rappresentanti di tutte le associazioni e istituzioni musicali le autorità militari comandante della guerra di finanza comandante dei carabinieri dell'aeronautica il signor questore tutti gli studenti e i docenti e il personale amministrativo due brevi considerazioni veniamo da un momento di transizione da un periodo di transizione è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione e anche il nuovo direttore in quanto la precedente direttrice la professoressa Brunetto seppur giovanissima ha optato per la quiescenza ma noi la ringraziamo per aver tra l'altro svolto il suo mandato in un periodo particolarmente complicato segnato anche dalla pandemia ma ha diretto questo conservatorio con grande competenza e professionalità sarà poi il conservatore a illustrare le attività e i programmi ma non posso non ringraziare tutte le anime del conservatorio ovvero gli organi a partire dal consiglio accademico diretto dal maestro delle vedove dove si programma si coordinano tutte le attività del conservatorio dal nucleo di valutazione dalla consulta degli studenti che oltre a esprimere dei pareri ha anche indicato e deve indicare in consiglio una sua rappresentante che è molto valida è un valore aggiunto per il consiglio devo ringraziare il personale amministrativo a partire dalla direttrice amministrativa e dalla direttrice di ragioneria con le quali collaboro più spesso che con gli altri organi ringrazio anche le rappresentanze sindacali i primi incontri sono stati costruttivi e molto collaborativi ed infine il consiglio di amministrazione ma riassumo tre obiettivi abbiamo appena approvato il piao che è il piano integrato attività e organizzazione tre sono i fronti principali ce ne sono tanti sui quali dovremo così concentrare le nostre forze innovazione tecnologica è imprescindibile potenziare le infrastrutture informatiche allinearci al piano nazionale digitale italia 2026 è collegato a questo obiettivo la riqualificazione è collegata la riqualificazione di una parte del fabbricato l'ex palazzo del tribunale noi beneficiamo di un compendio immobiliare veramente prestigioso a 7 mila metri tre quinti sono adesso fruiti dal conservatorio contiamo a breve contiamo a breve di partire con i lavori per il quinto e sesto lotto che sono i due corpi che si affacciano su via treppo verso porta manin è un'operazione che dobbiamo condividere con le dr perché come voi sapete la proprietà del comune è gestita dalle dr ex provincia e noi siamo utilizzatori quindi dovremo concertare i prossimi passi in attesa anche del parere della sovrintendenza ed infine stiamo pensando anche ad un auditorium ci sono stati degli studi di fattibilità dobbiamo ancora reperire i fondi o individuarli chiederemo alla regione se potremo avere un confronto per valutare la miglior soluzione ma credo che l'obiettivo principale sia l'internazionalizzazione la vocazione internazionale del conservatorio che è favorita avvantaggiata anche dalla collocazione geografica e che quindi non si limita solo al progetto erasmus ma a collaborazioni con i paesi della dell'area balcanica e dell'alpeadria a confronti con i paesi con i conservatori degli altri paesi per condividere collaborazioni anche su produzioni artistiche gorizia 2025 è un esempio il jack di gorizia e qui saluto il presidente il dottor paolo petiziol è un altro virtuoso esempio chiederemo qualche consiglio dico l'internazionalizzazione perché la musica è prima di tutto un linguaggio universale un linguaggio che unisce i popoli un linguaggio di pace per favorire il raggiungimento di questi obiettivi abbiamo necessità di consolidare e implementare la collaborazione con le istituzioni col comune di udine la regione la fondazione l'università con il centro servizi e spettacoli dobbiamo far sì che ci sia una collaborazione costante come c'è sempre stata perché come ha ricordato il presidente mattarella se vuoi correre veloce corri da solo se vuoi andare lontano corri insieme ad altri sono onorato di presiedere questo prestigioso istituto che è un'istituzione afam alta formazione artistico musicale che voi conoscete probabilmente nel tempo si paleseranno anche i miei limiti ma voglio concludere leggendo un testo che racchiude un po' l'identità territoriale e culturale del conservatorio una donazione della famiglia di claricini risalente al 1956 e qui ricordo il presidente il professor cernoia non riterei offensivo ecco soffermarmi su chi è la famiglia di claricini e la fondazione di claricini che con atto di ultima volontà è stata costituita e quindi vado a leggere il testo per poi cercare di interpretare e trasporre in questa serata il significato chiarissimo giuseppe marioni direttore del museo di cividale voi sapete che tomadini è nato a cividale 1820 1883 e nel 1922 gli è stato dedicato il conservatorio spinta da deferente ricordo verso mio nonno il conte guglielmo de claricini e dal desiderio di onorare la memoria del suo illustre maestro jacopo tomadini che era la corte della famiglia de claricini gloria di cividale intendo donare come dono a codesto museo il violoncello che fu già prezioso suo strumento india acquistato e gelosamente custodito dal suo discepolo guglielmo de claricini donato al museo di cividale oggi c'è il sindaco di cividale daniele bernardi ma anche il professore attilio vuga che è stato sindaco un decennio fa la rappresentanza civilese oggi è abbastanza nutrita perché dico un gesto di grande significato perché vorrei trasporre questo gesto della contessa giudita de claricini a questa serata perché con questo con cui con questa occasione anche il conservatorio desidererebbe idealmente donare a ciascuno di voi in particolare a coloro che si avvicinano al meraviglioso mondo della musica uno strumento quello da voi preferito per elevare ancor più la sensibilità di ciascuno di voi alla cultura musicale della quale il conservatorio si propone quale sommo interprete e quale prezioso divulgatore buona serata grazie grazie presidente l'ho invitata a rimanere con me perché ora è un momento veramente speciale ora la parola alla musica apriamo il sipario e apriamo così simbolicamente l'anno accademico 2023-2024 del conservatorio Tomadini di Udine si pario grazie 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 There is somebody I'm longing to see I hope that she turns out to be Someone who walks over me I'm a little lamb lost in a world I know I could always be good To one who walks over me Mother, I may not be the mensonge girl Think God has answered But yours you carry the key Won't you tell them please to put on some speed Follow my lead, follow my lead Oh, I need someone who walks over me 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 I need someone who walks over me I need someone who walks over me I want you tell them please to put on some speed To follow my lead Oh, I would need someone to walk over me Someone who walked over me Someone who walked over me Oh, I would need someone to walk over me 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 Irreplaceable you Just one look at you My heart grew gypsy in me You and you alone Bring out a gypsy in me I love all The many charms About you Above all I want my arms About you Don't be a nutty baby Come to mama Come to mamadou My sweet embrace My sweet embrace For you My sweet embrace For you You and I Do not work You're going to go Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti 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 Buonasera a tutti Grazie 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 a tutti